Grazie a tutti Non ci siamo riusciti Però siamo un bel gruppo E quindi è andato bene Quindi adesso doccia E basta Secondo e pari punti con loro Vediamo cosa ha fatto il fondo docce Però dai In teoria siamo dentro tutti Perché abbiamo tanti punti E un ringraziamento speciale sempre alla nostra viola Del 5 d'ora E quindi bene Ci siamo divertiti Adesso andiamo a fare un aperitivo Ciao Signori Posso